Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 2 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Inquieti, sotto effetto di Saturno e Nettuno. Strano gioco planetario per voi, sotto tiro di Saturno e Nettuno, misantropi all'opposizione, mentre Venere, Giove e il Sole dal punto più alto del cielo reclamano a gran voce socialità. Di fatto nessuno di loro è armato di cattive intenzioni, grazie alla Luna che li asseconda. È caso mai il vostro carattere sospettoso a farvi vedere tutto nero, osservate da questa prospettiva le esperienze negative si ingigantiscono e il cuore preferisce mantenersi distaccato piuttosto che rischiare un'altra fregatura. La voglia d'amore c'è, e anche di erotismo, ma sotto effetto di una doccia fredda le pulsioni si proiettano sull'arte e la fantasia. Un invito a sorpresa suggerisce di presentarvi con un dolce di pasticceria e un bel mazzo di fiori, non siate avari. Un documento scritto che può essere una lettera, un email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni e risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. La giornata di oggi si prospetta con molti nei contrattempi, meglio non insistere troppo nel cercare di affermare le proprie idee e di farsi le proprie ragioni. Alti e bassi di umore. Forte indecisione. Frena l'emotività. Sii sincero. Bisogno di affetto e di coccole. Innamoramenti facili. Sii più selettivo. Mostrati sicuro nelle trattative di lavoro. In amore, evita la gelosia. Oggi è una buona giornata per lo shopping, anche se economicamente dovrete fare attenzione, tuttavia il piacere di una passeggiata per negozi e rientrare con alcuni pacchetti tra le mani contribuirà al vostro umore. Amici poco sinceri vi renderanno la vita difficile, diffidate da chi vi adula troppo oggi. In amore attenti ai trabocchetti. Fate economia e mettete da parte una buona somma, e fate attenzione alle multe. Oggi molti potrebbero ritrovarsela a casa. Gelosie inutili vi assaliranno, non lasciatevi andare a scenate non rovinatevi la giornata con queste gelosie immotivate. In serata cercate di organizzare qualcosa con i vostri amici o con il partner. Vantaggi da cause legali, e tutto ciò che farai unitamente agli altri. Giorno ideale per terminare clavori pesanti e noiosi. Serata serena e piacevole per certi aspetti. Siete troppo gelose, moderatevi e cercate sempre di capire le ragioni degli altri e non aggreditelli. In fondo può capitare a tutti di sbagliare e il perdono è dovuto e sacrosanto. Mercurio e Urano continuano ad esservi amici dal toro e pur con aspetti concomitanti dissonanti, tenete il timone della vostra vita in modo fermo. Inoltre, oggi la luna in angolo benefico dal segno amico dello scorpione è una fiamma che non vi dà beneficamente pace, un pungolo costante che movimenta il livello delle vostre ambizioni. Sia in campo personale che sociale, avete dalla vostra questo stimolo forte e costante che vi permette di lanciarvi lontano e ipotizzare progetti, imprese e nuovi orizzonti dove potervi esprimere. Una domenica quasi in sapore, con tante belle velleità dipinte sul soffitto della vostra camera da giove, venere e il sole abbracciati in gemelli allo zenit. Sogni, fantasie, ma di fatto con la luna ininfluente e plutone acquariano che anche oggi vi vorrebbe a lavoro o impegnati in qualche attività manuale, non se ne fa nulla. Familiari e amici se ne vanno per conto loro, scornati anche in merito allo spettacolo atteso con impazienza, magari un bel concerto all'aperto, rovinato da un'acquazione improvviso. Amore ed eros. L'amore è il sogno che preferite, triste la sensazione di essere incompresi. Magari pensate ancora a qualcuno che ormai fa parte del passato, ma attenti a non farvi illusioni, non ci sono speranze di un replay. Siete innamorati e non vi dispiace, ma il vostro temperamento freddo e razionale vi invita a porre qualche limite alla vostra esuberanza. Chi ha amore nel petto ha gli sproni nei fianchi e le ali ai piedi. Così recita un vecchio adagio, che oggi si adatta alla vostra condizione, avendo come prestigioso amico il vibrante e sensuale urano in toro. È vero che siete in fermento, ma sappiate attendere anche le buone occasioni per agire. E Giove con il sole, contrari dai gemelli, non ve le forniscono come voi vorreste. Lavoro e denaro. In gita o se vi tocca di turno in azienda, tutto top secret, osservate, prendete nota ma state ben attenti a non proferire parola, è con la bocca cucita che si va lontano. Creatività scalpitante ma frenata dalla paura di farsi travolgere, tra razionalità e intuito ingaggiate un furioso braccio di ferro. Se avete scelto di svolgere una professione autonoma e libera, avrete oggi grazie a un bell'aspetto della luna nel segno dello scorpione, la strada spianata. Sapete come condurre il gioco, la fatica non vi pesa. Benessere. Rispetto alla cura che ponete nel benessere, oggi i risultati appaiono deludenti ma dovreste tener conto del periodo difficile che vi lasciate alle spalle. Gli ormoni svarionati contribuiscono a far traballare l'insieme e peggio va a chi, con il rialzo delle temperature, non resiste alla tentazione di abbassare i finestrini proprio mentre è sudato, la cervicale inizia subito la sua campagna di protesta. Denaro. Non vedete l'ora di trascorrere le vacanze estive, la lunga contrarietà di Saturno può avervi strapazzato. Potete recuperare efficacemente le energie con attività dolci come lo yoga e il nuoto. Per lei, la realtà vi intristisce e vi imprigiona, almeno lasciatevi andare al sogno, non costa e non comporta rischi. Per lui, preoccupati per un anziano di famiglia più cocciuto di un mulo, anche stamani passate per una saluto, offrendovi di fargli almeno la spesa, già fatto, con fatica ma tutto da solo. Colore delle emozioni, tortora. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!